Rieccoci bentornati, come promesso abbiamo anche tanto sport da raccontarvi partendo dall'impresa della Vibonese nella finale playoff di eccellenza 4-1 all'isola Caporizzuto e Serie D ad un passo. E' un successo che spinge la Vibonese alle fasi nazionali dei playoff promozione, ma il 4-1 del Luigi Razza rifilato all'isola Caporizzuto potrebbe già da subito proiettare gli uomini di Gaetano Di Maria in Serie D. I nuovi criteri in materia di ripescaggio infatti premiano, al contrario di quanto accaduto fino allo scorso anno, la storia sportiva rosso blu. I diversi anni in Lega Pro questa volta conteranno in maniera pesante e ingradotoria, come peserà nell'economia generale la vittoria nella finale regionale contro i crotonesi. Ma questa è un'altra storia perché la Vibonese vuole arrivare fino in fondo a questa competizione. E' una questione di prestigio. Onore comunque all'isola Caporizzuto che ha battagliato con le unghie e con i denti, costrigendo rusce, compagni e tempi supplementari, nonostante l'inferoità numerica per tutto il secondo tempo. Frazione di gioco in cui è arrivato il momentaneo pareggio di Covelli dopo il vantaggio Vibonese firmato dalle Gretti nella prima parte del match. Le certezze epitagoriche affondano però negli extra time, quando a fare la differenza e la tenuta atletica, la qualità e l'esperienza dei ragazzi di Gaetano Di Maria ad un passo dalla Serie D esattamente un anno dopo averla persa. E mentre la Vibonese batteva Luigi Razza all'isola Caporizzuto al Granillo di Reggio Calabria in Lega Pro, la regina batteva, asfaltava, è proprio il caso di dirlo, il Catanzaro tenendo vive le speranze play-out. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Con i tre punti d'oro conquistati nel derby col Catanzaro, la regina continua a sperare nell'accesso ai play-out. Dopo il successo di ieri, infatti, la squadra di Giacomo Tedesco si è portata ad un solo punto dal Savoia, sconfitto in casa della Casertana. Sabato prossimo, l'ultima giornata di campionato che deciderà le sorti della regina. Gli Amaranto saranno impegnati con il Martina Franca, squadra che non ha più nulla da chiedere a questo torneo. I tre punti sono d'obbligo per agganciare il treno dei play-out, ma la vittoria potrebbe non bastare. Di Michele e compagni dovranno infatti sperare che il Savoia, dopo quello di ieri, compia un altro passo falso con il Messina, squadra quest'ultima che potrebbe essere avversaria proprio della regina in caso di spareggio per la permanenza in Lega Pro. Ieri dicevamo il derby col Catanzaro. La regina è riuscita ad imporsi sulla squadra giallorossa grazie alle tre reti realizzate da Viola nel primo tempo e da Di Michele e Maimone nella ripresa. A nulla sono valsi i tentativi del Catanzaro di evitare la sconfitta. Razziti ha illuso la sua squadra grazie al pareggio realizzato al diciassettesimo della ripresa, ma poi le motivazioni della regina hanno avuto la meglio. A fine gara, la dura contestazione dei tifosi giallorossi all'indirizzo della squadra, mentre Sanderra, che in un primo momento ha rilasciato alcune dichiarazioni alle tv, è stato richiamato da una telefonata del presidente Cosentino che gli ha comunicato l'esonero. Esonero che è arrivato in maniera ufficiale stamattina, andiamo a leggere insieme il comunicato della società giallorossa. Il Catanzaro Calcio comunica di aver sollevato il signor Stefano Sanderra dall'incarico di allenatore della prima squadra unitamente al collaboratore Luca Sanderra, il club giallorosso. Ringrazia i due tecnici per la dedizione con cui hanno svolto il proprio lavoro, augurando loro le migliori fortune professionali. La squadra adesso è stata affidata al signor Massimo Durso che si avverrà della collaborazione del signor Carmelo Moro. A pesare evidentemente sulla testa di Moriero prima e Sanderra dopo il magro bottino nei derby del Catanzaro sconfitto, come ripetiamo dalla regina nella penultima giornata di Lega Pro. Qualificazione alla prossima Team Cup rimandata sia per la Vigor che per il Cosenza, battute rispettivamente da Benevento e Juve Stabia. Battere il Cosenza in questo periodo è già una notizia, farlo in casa sua ha del clamoroso a spezzare la magia. Attorno al San Vito e il Benevento, corsaro sul campo dei Silani nella penultima giornata di campionato. Si interrompe così ad 11 la striscia casalinga di risultati utili consecutivi firmata a Roselli. Nessuno con l'ex Bavia in panchina era riuscito a battere nello stadio cosentino la formazione rosso-blu. Il gol partita porta la firma di Agei alla mezz'ora del primo tempo. A nulla serve la riscossa Silana nella ripresa, al triplice fischio vince il Benevento che strappa così il miglior piazzamento ai play-off. Sconfitta, tutto indolore per il Cosenza che conseguentemente alle battute d'arresto di Melfi e Vigor Lamezzi ha ancora l'opportunità di centrare il nono posto in graduatorio generale. Piazzamento che permetterebbe ai Silani di qualificarsi alla Team Cup. Stesso discorso per i ramentini della Vigor, piegati 4-2 a Castella Mare di Stabbia dalle Vespe della Juve. Notizia positiva tra i biancoverdi il ritorno al gol del difensore Fabrizio Di Bella, ritornato da poco in campo dopo un bruttissimo infortunio che lo ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco per diversi mesi. La squadra ha fatto una prestazione a mio avviso molto buona al cospetto di una Juve Stabbia che si sta giocando un obiettivo importante. Ritengo che abbiamo fatto l'ennesima figura positiva fuori casa dove nel giro di ritorno fino ad essa abbiamo perso solo la Torre Annunziata quindi le dimostra che su qualsiasi campo questa squadra se l'è giocata fino alla fine. Abbiamo sentito anche le dichiarazioni a caldo di Alessandro Erra, tecnico della Vigor. racchiudiamo adesso con la pallavolo perché manca davvero pochissimo a gara 2 della finalissima playoff di Serie A2 maschile tra Corigliano e Potenza Picena andrà in scena proprio domani alle 20.30. Neppure il tempo di gioire per il match vinto in terra marchigiana che Corigliano è tornato subito in palestra c'è gara 2 da preparare, quella che dopo aver messo in tasca gara 1 potrebbe garantire un bel margine di vantaggio nella serie che porterà al passaggio in Superlega. Un sogno che la compagine di Coach Bove non vuole farsi sfuggire. Il gruppo rosso-nero sa che ha tutte le carte in regola per agguantare l'Olimpo della pallavolo. Un torneo che manca dalla stagione 2007-2008, quella che portò di fatto al ritiro del club un anno dopo. Rinata dalle ceneri del volley Corigliano, la nuova società ci ha messo 5 anni per riportare i colori rossoneri ad un passo dal massimo torneo italiano di pallavolo. C'è anche questo dietro la fame di gloria del Corigliano, una fame rabbiosa, una grinta ed una determinazione vista all'opera sul mondo flex della potenza picena venerdì scorso. Quella che servirà anche martedì al Palabrillia, lì dove si attende il tutto esaurito con i tifosi provenienti non solo da Corigliano ma da tutta la Calabria del volley. Sarà fondamentale il supporto del pubblico per spingere banderoi e compagni in gara 3 con due assi già nella manica. Io sto professando ai miei ragazzi di continuare, continuare così perché siamo in un bel momento quindi continuiamo così, veniamo da una scia positiva, vediamo di continuare questa scia positiva. In ultimo, grande pubblico si attende per martedì 5 a Corigliano, una città che merita questa vetrina. Sicuramente sì, Corigliano è una vetrina importante, l'affluenza del pubblico è grande però io penso che in questo momento l'affluenza sia degli appassionati di Palavolo del centro-sud sia un punto importante, quindi penso che noi avremo molta affluenza martedì perché ci sarà tutto il centro-sud palavolistico. Bene così, grazie per averci preferito, a voi tutti un buon proseguimento, ad Alessio Buonpasso.